Ciao a tutti, oggi andiamo a parlare dei VPN e più precisamente di come comprare una VPN, in questo caso la miglior VPN a mio parere, nel modo più anonimo possibile. Come molti di voi sapranno, io consiglio sempre Mulvad come VPN, tra poco andrò a spiegare il perché. Appunto la consiglio a tutti i miei utenti che mi seguono sia su YouTube che sul gruppo Telegram Bitcoin Sicurezza Privacy. Ma partiamo dal presupposto, facciamo un piccolo riassunto di cos'è una VPN. Essenzialmente una VPN non è altro che un intermediario, quindi è un modo per semplificare, per creare un canale tra noi ed internet. In questo caso vedete qua, questo è un piccolo grafico che fa vedere che tra noi internet e internet c'è il nostro internet service provider, quindi gli SP come FastWeb, Telecom Italia, Vodafone eccetera eccetera eccetera. Quindi ogni qualvolta che noi andiamo a collegarci su internet in generale, visitiamo qualsiasi sito web, c'è un intermediario di mezzo che è il nostro ISP appunto. Ma come funziona? Funziona in modo tale che il nostro computer, il nostro telefono, quando ad esempio digitiamo google.com, in realtà andiamo a chiedere a un DNS che nel 99% dei casi è gestito appunto da password, telecomitari eccetera, dove si trova quindi in generale il DNS non altro che un database, una lista molto molto lunga che mette in correlazione i domini che sono appunto google.com, facebook.com, youtube.com e i rispettivi server e rispettivi IP di destinazione. Quindi c'è una richiesta dal nostro computer al DNS solitamente gestito appunto dall'ISP, l'ISP ci dice guarda che google.com si trova a questo indirizzo IP e quindi appunto il computer dopo si collega direttamente a google.com, però in realtà in background si collega a un server appunto l'indirizzo IP. Qual è il problema? Ma che appunto il nostro ISP potenzialmente sa tutte le richieste che noi facciamo appunto gestisce un DNS e quindi potenzialmente è in grado di tracciarci e vedere tutti i siti web che visitiamo. Non solo, contemporaneamente google.com, in generale il server di google.com riceve una richiesta diretta dal nostro device e quindi praticamente è in grado anche di tracciare il nostro IP e la nostra posizione geografica nel mondo. Quindi appunto cos'è una VPN? È un intermediario tra noi ed internet. Ci dà maggior sicurezza nelle connessioni, vedremo un attimo, ne parleremo più specificatamente a breve, ma soprattutto ci dà più privacy. Quindi partiamo subito dal presupposto che una VPN innanzitutto non dà anonimato né tantomeno aggiunge maggior sicurezza alle connessioni non sicure, ovvero HTTP. Come avrete visto nella maggior parte dei browser, in alto a sinistra ci sono solitamente o HTTP oppure HTTPS. HTTP sono delle connessioni non sicure. HTTPS appunto con la S finale che sta ad indicare secure. Quindi cercate sempre di privilegiare le connessioni sicure. Perché? Perché tutto il traffico che passa su HTTPS è criptografato, quindi teoricamente non dovrebbe essere visibile, non è trasparente e nessuna terza parte tra voi e server di destinazione dovrebbe intercettare tali dati e leggerli. Quindi se volete anonimato ricordatevi di usare sempre Tor Browser che è comunque il browser che sto utilizzando io adesso per questo tutorial. Per maggiore sicurezza quindi bisogna utilizzare DNS criptografati, appunto ne parleremo a breve, e HTTPS. Quindi l'uso di una VPN è perfetto per innanzitutto avere maggiore privacy verso l'ISP ma anche verso tutte le Wi-Fi pubbliche che potete trovare in giro, non so come ad esempio in aeroporto, nelle stazioni, in generale nelle città. E appunto è utile per nascondere il vostro IP del vostro device al server di destinazione, quindi anziché mostrare il vostro IP reale, mostrare l'IP della VPN e in generale anche per accedere a tutti quei contenuti censurati. Ma appunto qual è la VPN migliore? Beh secondo me è Mulvad VPN, perché? Perché innanzitutto è presente in 769 server, cioè ci sono 769 server diversi su 37 nazioni diverse, 61 città diverse e 25 provider diversi. Non solo, Mulvad è anche open source, come potete vedere qua, quindi tutto il codice sia le app per desktop che per smartphone sono open source. non solo, il codice stesso è stato controllato, c'è stato in generale un audit del codice da parte di due differenti aziende di cyber security, effettua una politica no log, quindi non registra alcun dato sull'utilizzo della VPN stessa da parte degli utenti, non ha alcun servizio di reviews, in generale di affiliate o di referral. Questa secondo me è una cosa molte volte sottovalutata, ma è importante, perché? Perché appunto VPN viene consigliata non perché c'è un incentivo economico dietro, ma perché è un prodotto, un servizio veramente valido, che appunto è anche per questo motivo che io ve lo consiglio. infatti non ci guadagno nulla a fare questo video, cerco insomma di aiutarvi e di spiegarvi come comprare una VPN, in questo caso Mulvad, nel modo più anonimo possibile. Non solo, Mulvad supporta anche WireGuard, che è essenzialmente un protocollo di VPN più veloce, più sicuro e più stabile rispetto a OpenVPN, supporta i PV6 e supporta anche il port forwarding. Come ultima cosa, appresenta anche un sistema di kill switch, ovvero che ogni qualvolta che il traffico non passa per la VPN viene bloccato, per evitare appunto leak vari della vostra identità. E una cosa molto molto importante, vedete che supporta un onion service, quindi è possibile accedere al sito di Mulvad, che sarebbe comunque mulvad.net, attraverso un onion service tramite Tor. Questa è una cosa molto molto importante perché permette anonimato totale in fase di generazione di un account con Mulvad e anche appunto in fase di acquisto. Perché una cosa molto molto interessante di Mulvad è che innanzitutto ovviamente ha un costo che è di 5 euro al mese. Ricordatevi comunque che il business model delle VPN dovrebbe essere appunto quello di farsi pagare per il proprio servizio. Io eviterei di utilizzare VPN gratuite perché molte volte, non sempre, nelle VPN gratuite ovviamente c'è in qualche modo dove un guadagnare, no? Quindi dove potrebbe essere il guadagno? Nei vostri dati. Però non sono qua per giudicare altre VPN, ma parliamo appunto di Mulvad. Quella è la cosa interessante, è che non solo accettano appunto Bitcoin, Bcash, bonifici bancari, credit card, paypal, eccetera, ma permette anche di essere acquistati attraverso cash, quindi contanti su una busta anonima. Ovviamente non andrò a parlare dell'acquisto in contanti, ma andrò a parlare di come acquistare Mulvad non tramite Bitcoin, ma tramite Lightning Network. Come abbiamo visto bene, qual è il problema dell'acquistare in generale con Bitcoin? Che purtroppo quando voi fate una transazione viene registrata permanentemente sulla blockchain, quindi in generale condividete informazioni su di voi. E perché secondo me è sbagliato acquistare una VPN in generale con una carta di credito, paypal o un bonifico bancario? Perché ovviamente creerete un collegamento tra voi e la vostra VPN, quindi potenzialmente appunto la vostra banca, appunto Paypal oppure altri servizi che utilizzate saprebbero che siete degli utenti, dei clienti di Mulvad. Siccome la privacy parte proprio dalle basi e parte dal presupposto che meno informazioni condividiamo all'esterno con meno entità possibile, più siamo protetti, ecco che certo pagarlo con Bitcoin è fantastico, ma se vogliamo aggiungere un ulteriore livello di privacy ecco che forse utilizzare Lightning Network è la cosa migliore perché non viene scritta alcuna transazione sulla blockchain. Non solo, una cosa molto importante secondo me di Mulvad è che è un'azienda svedese, quindi segue la giurisdizione svedese che comunque tutela molto 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 la privacy. Comunque potete vedere tutte le informazioni di Mulvad sul sito, vi consiglio di guardare tutti i dettagli lì. E una cosa bellissima secondo me è che non richiede alcuna email o password per registrarsi e per avere un account. In che senso? Nel senso che tutto il sistema di Mulvad si basa su dei numeri. Quindi partiamo subito dal tutorial. Andiamo su Mulvad WPN, possibilmente tramite Tor e su questo servizio, su questo onion service che troverete anche in descrizione, andiamo su My Account e generiamo un nuovo account. Ovviamente adesso io censurerò il numero dell'account che ho appena generato, per un motivo molto semplice, e questo appunto, il numero che vedrete qua, che adesso è censurato, sarà l'unico dato di cui avrete bisogno per utilizzare Mulvad. Quindi adesso, come fare per pagare Mulvad in un modo privacy oriented con Lightning Network? Ecco che ci viene in aiuto questo sito web, che trovate anche questo in descrizione. Questo è un servizio portato avanti da un bitcoiner molto molto famoso e con molta reputazione, che si chiama Carl Dong, che permette di acquistare dei vostri share per Mulvad attraverso Lightning Network. In questo sito web qua potreste, tra virgolette, sia entrare attraverso il sito stesso con il vostro account Mulvad, per caricarlo direttamente, oppure potete generare un account nuovo attraverso questo sito stesso, però secondo me, io ve lo sconsiglio, perché meno informazioni diamo anche a questo sito qua, meglio è. Vedete che in questo caso io ho generato un nuovo account con il servizio stesso, non quindi con Mulvad, quindi potenzialmente potrebbe, insomma, tra virgolette, questo servizio sapere l'ID che mi ha creato. Siccome noi vogliamo diminuire drasticamente la superficie d'attacco e vogliamo condividere con questa stessa entità meno informazioni possibili, ecco che la cosa migliore da fare, secondo me, appunto, come vi ho fatto vedere prima, generare un nuovo account tramite il sito di Mulvad e poi semplicemente cliccare questo tasto, quindi clicchiamo Hack Yeah ed essenzialmente ci dirà quale coupon vogliamo acquistare. Possiamo quindi decidere ad acquistare un piano mensile di 30 giorni da 5 dollari oppure un piano annuale da 366 giorni da 55 dollari. Se preferiamo, in questo caso per fare questo tutorial, il mostro 30 dollari, non dobbiamo fare altro che cliccare questo pulsante qua, quindi top up with lightning e ci genererà appunto una transazione, una invoice di lightning network che dovremo copiare, che anche in questo caso qua ho censurato per tutta la mia privacy, che dovremo copiare ed incollare sul nostro wallet per lightning network. Questo codice qua che vedete qua è molto importante perché nel caso abbiate problemi in generale con il pagamento oppure con se avete bisogno di supporto o altro, è importante copiarlo perché vi permette di ottenere supporto e dimostrare che appunto siete voi dietro questo ordine specifico. Quindi copiamo questo ordine qua che ci mostra, lo incolliamo da qualche parte, possiamo decidere dove, poi copiamo questa stringa, possiamo o selezionarla manualmente o semplicemente cliccare questo pulsante qua, e poi ci spostiamo sul nostro wallet di lightning network, io adesso ovviamente mi sto spostando sul mio wallet, non lo vedete, incolliamo l'invoice, inviamo il pagamento, adesso aspettiamo, vediamo, adesso appena fatto il pagamento, vediamo cosa succede. Teoricamente questa pagina dovrebbe aggiornarsi e appunto dovrebbe dirmi che ho effettuato il pagamento. Ecco che si sta aggiornando, vedete, ha letto un network che è estremamente veloce, quindi in meno di 10 secondi è arrivato il pagamento e appunto l'ordine è concluso, quindi abbiamo ricevuto il pagamento, come sempre questo è l'id dell'ordine, mentre questo in maiuscolo è il vshare che noi dobbiamo utilizzare all'interno di Mulvad, sia dal sito web che dall'app, per caricare 30 giorni sul nostro account. Quindi non facciamo altro che copiare il codice che ci ha mostrato, torniamo sul nostro account Mulvad, lo incolliamo, facciamo submit ed ecco che appunto mi dirà grazie, il tuo account è stato caricato con 30 giorni di VPN. Quindi ragazzi, veramente è semplicissimo, questo è Mulvad, questo è secondo me la VPN migliore al mondo ed è anche la VPN appunto che permette di essere acquistata tramite Bitcoin. In questo caso vi faccio vedere addirittura come acquistarla con Lightning Network per ridurre le informazioni che condividete all'esterno, quindi non dovrete fare altro alla fine che copiare il famoso id di Mulvad il vostro codice utente, inserirlo nell'app quando la scaricate e avrete una VPN sicura, privacy oriented, senza aver inserito alcuna mail o password, quindi senza esservi registrati e l'unico riferimento relativo a voi è questo id che vi permetterà di accedere con diversi device, fino a 5 se non sbaglio, e appunto sfruttare tutti i server di Mulvad che sono 769 server diversi. Che dire, spero che vi sia piaciuto questo tutorial, se avete bisogno di supporto, domande potete scrivermi direttamente qua su YouTube oppure sul mio gruppo Telegram Bitcoin Sicurezza e Privacy. Vi ricordo che questo è un video che fa parte del progetto Bitcoin Sicurezza e Privacy che punta a educare sui temi di sicurezza e privacy, principalmente di Bitcoin, ma questo è un tutorial insomma un po' più generale. Quindi se volete supportare questo mio progetto potete andare su questa pagina dona.bitcoinsicurezza e privacy.it cliccare questo pulsante qua Contribute inserire l'importo che volete donare in questo caso possiamo dire non so 0.0000 un bitcoin e non solo potrete donare e supportare appunto questo mio progetto educativo con bitcoin effettuando una transazione a un chain in questo caso ancora più specificatamente un pay join ma potete anche decidere di supportarmi tramite Lightning Network. Vedete? quindi qua avrete sia un indirizzo dove poter inviare bitcoin quindi on chain addirittura tramite pay join oppure se volete cliccando qui dovete donare tramite Lightning Network quindi evitando di condividere ancora più informazioni all'esterno scrivendo una transazione sulla blockchain non solo se avete un wallet o un nodo Lightning Network vi consiglio vivamente di collegarvi al mio nodo che potete trovare comunque su 1ml punto com quindi cercando bitcoinsicurezzaprivacy.it su 1ml ma in generale comunque troverete anche il riferimento in descrizione qua trovate tutti i p e la public key per collegarvi il mio nodo e aprire un canale con me perché questa cosa è importante perché non solo vi permette di aprire un canale con qualcuno che sono appunto io che tutela la vostra privacy perché comunque non assolutamente traccerò lo stato dei canali o altro vi permette anche di decentralizzare Lightning Network e migliorare la privacy di tutti quindi ragazzi spero che vi sia piaciuto il tutorial e ci vediamo al prossimo video